Pichiamo per il successo del governo Draghi e quindi lavoriamo insieme per il successo del governo Draghi per far uscire l'Italia dalla pandemia, per far sì che le vaccinazioni avvengano e ci sia il successo della ripresa economica che tutti auspichiamo. Per questo, tra i tanti temi di cui abbiamo parlato, abbiamo convenuto anche sulla necessità, dopo aver ascoltato le parti sociali, che il governo faccia un importante decreto imprese che aiuti il mondo dell'economia e il mondo delle piccole imprese in questo momento molto in difficoltà. Crediamo che questa sia, possa essere una scelta giusta, una strada giusta con la quale aiutare il nostro Paese a ripartire. Ripeto, poi alle elezioni saremo, come è giusto che sia, su fronti contrapposti con la Lega. Mentre con i cifre semi non ci avete trovato delle imprese. Grazie. In breve circolazione.